Solo altri 10 secondi! 5, 4, 3... Nessuno strumento di morte sarebbe completo senza delingue di fuoco! Sentite anche voi, questa puzza sembra quello di catto bruciato! Questo Lombax ci tiene proprio a unirsi ai Tux Morgles! Dovremmo dirgli che non c'è nessun lavoro? Sì, non c'è nessun lavoro! Preparati a soffrire l'Op. Sì! 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 Appena in tempo! Sì! 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 Ora stia esaurendo il carburante! Sembra a corto di munizioni! Ne mancano cinque! Ancora trenta secondi! È un repulso dei tempi! Ancora tre uccisioni! Ancora dieci secondi! Cinque! Quattro! Due! Ratchet potrebbe essere al capolinea! Uno! È il momento di solcare il cielo con la sfida Jetpack! Questa sì che è combattere, gente! Fì! Questa sì che è la scala di poter pittare il bune! Sì che è più forte? Non è più forte! Perne altri cinque? Solo altre tre uccisioni. Mancano trenta secondi allo scadere del tempo. C'è una persona가 con la loro conoscenza e nonostalità. Però non c'era un bai. Sì, giù deve avere una persona. Oh, capire lo scadere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ancora 30 secondi. Sto per farti molto male. Solo altri 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1... La sirena sancisce lo scadere del tempo. Ti farò male. Dove vorresti andare, no? Ammazziamolo. Questa round, va a love us! Ora sei nei guai. Dove vorresti andare? Quel barattolo che ha sulla schiena è Clay, un robot zoni che svolge il ruolo di spalle intelligente di Ratchet. Mancano 30 secondi a los cadere del tempo. C'è il capolineo. Questo Lombax ha del talento. Non so se dovremmo reclutarlo o cucinarlo a colazione. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1... No! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Voglia dire essere cresciuti da soli, tutti con un padre e una madre. Mentre noi potevamo contare solo l'uno sull'altra, ma ora le cose cambieranno. Non vorrà portare quella cosa nel nostro mondo, vero? Se Vendra è disposta a fare l'acquare l'intero settore, significa che è pronta a tutto. Dobbiamo riuscire a trovarla. Questo è un messaggio registrato del sindaco Gamblebrick. È in corso l'evocazione di tutto il settore. Radunate le vostre cose e raggiungete il più vicino pianeta non infestato. L'ultimo attivi il sistema di difesa a Megatech, per favore. Grazie. Ricordatevi di votare. È la vecchia stazione del treno gravitazionale. Deve essere stata evacuata in fretta. Liberiamo i binari. Le serve una corazza, signore? Ehi, hai trovato un altro frammento del reno? Quei progetti sono troppo pericolosi per restare abbandonati nella galassia. Cerca gli altri sei. È vero che Tychion ti aveva offerto un modo per tornare a casa e tu hai rifiutato. Io non ce l'avrei fatta. Volevamo tornare a casa, ma è passato troppo tempo. Tanto voleva portare qui il nostro mondo originario. Che va? Ha un potenziamento? È un piacere fare affari con... Stupido sorcio spaziale! Come osi fare del male ai miei amici? Te ne pentirai amaramente. Casse? Fai perdere tempo a Mr. Jurgon con delle case! Mr. Jurgon si annoia! Attento, quella torretta è ancora attiva! Pattuglia sul ponte! Perché non va in avan scoperta? Agente segreto Clank a rapporto! Quel pannello deve essere un ripetitore del sistema di comunicazione dei tag. Accedendovi potremmo triangolare la posizione dei gemelli. Stiamo alla larga da quei riflettori e non ci accadrà nulla. Un'altra presa libera. Un'altra presa libera. Grazie a tutti.